Una vittoria davvero fondamentale per questa Fidelis, è arrivata anche in bello stile con il 3-0 finale. Sì, siamo contenti, come ho detto prima è il premio per le ultime prestazioni che abbiamo fatto, penso che ce lo meritiamo. Serviva ovviamente una vittoria soprattutto per una maggiore tranquillità probabilmente. Sì, noi la classifica non la guardiamo, noi pensiamo quotidianamente a lavorare, vi posso garantire che è quello che stiamo facendo e continuo a dire che siamo contenti perché è il risultato di quello che è tutti i giorni, del lavoro di tutti i giorni. Si è visto infatti poi dopo soprattutto il 2-0 maggiore tranquillità da parte della squadra? Sì, dopo un momento abbastanza lungo che abbiamo avuto negativo, anche lo specchio, il primo gol, dovevo aver subito il primo gol, subenta la paura. Hai paura di sbagliare, non vuoi perdere la partita, però siamo entrati con lo spirito giusto, l'abbiamo chiuso sul 2-0 e abbiamo dimostrato quelli che siamo veramente. Per chiudere non avete visto la classifica? Assolutamente no.